Manca il giudice titolare del procedimento, Maria Carla Sacco, ora in forza in un altro tribunale, l'udienza pescara del processo BIS su una mega discarica di rifiuti di bussi viene rinviata al 18 novembre. Ad occuparsi del processo sarà quindi il gruppo Maria Michela Di Fine. Nel procedimento stralcio di quello principale in corso in corte d'assisi a Chieti, risultano coinvolte 5 persone, ex vertici di A.C. e A.T. Pescaresi, Giorgio D'Ambrosio all'epoca dei fatti presidente del lato, Bruno Catena all'epoca presidente dell'ACA S.P.A., Bartolomeo Di Giovanni come direttore generale dell'ACA, Lorenzo Livello in qualità di direttore tecnico dell'ACA e Roberto Rongione responsabile del servizio Sian della ASL di Pescara. Il reato contestato è distribuzione di acque contaminate. Si tinde gli attivisti del forum dei movimenti per l'acqua davanti al tribunale. Il caso più grave in Europa di contaminazione degli acquedotti, denunciano. 700.000 persone hanno bevuto acqua contaminata. Dopo 7 anni siamo ancora a questo punto. Renato Di Nicola. Chiediamo che finisca l'impunità, che ci sia giustizia e che finalmente si abbia un registro tumori, un'inchiesta epidemiologica seria che ci dica quello che è avvenuto in questi anni. In tutte le parti d'Italia le popolazioni hanno sempre detto quello che succedeva ai territori, perché nei territori ci vivono. È successo per il Mose, è successo per l'Espò, è successo anche qui in Abruzzo. E quindi noi chiediamo semplicemente giustizia e che le persone che hanno danneggiato l'Abruzzo non possano più danneggiare ulteriormente. Ci dovremo ricostituire parte civile, spiega ai cronisti l'avvocato del WWF, Tommaso Navarra. Il perché lo snodo, il processuale, essenzialmente è nuovo e si riparte essenzialmente da capo. Da come avevamo lasciato il processo circa ormai tre anni fa. È un problema di tempi, chiediamo una sollecia definizione di questa che è una fase soltanto preliminare. Siamo ancora in udienza preliminare. L'avvocato Lino Sciambra, in sostituzione dell'Avvocatura dello Stato, ha annunciato che il Ministero della Salute, come ha già fatto il Ministero dell'Ambiente, si costituirà parte civile. La vera giustizia, ha concluso Luciano Di Tizio del WWF Abruzzo, è la bonifica del territorio. Occorre stabilire rapidamente chi è colpevole e chi è innocente. E non si può tollerare un'altra udienza preliminare che duri tre anni come ha fatto il processo. Ci auguriamo che questa volta si sia un pochino più rapidi.